Diamo il benvenuto al professor Romano Prodi. Buonasera a tutti voi. Allora professore, partiamo dal titolo del suo libro, Chi si trova su un piano inclinato? Tutti anche lei, perché è il mondo che in un piano inclinato l'Europa e l'Italia. Perché? Ma noi ormai dagli anni Ottanta che le divisioni fra ricche e paure aumentano, la finanza mescola tutto e la gente ha paura. La gente ha paura. All'inizio si pensa che le cose passino alla svelta, poi ad agio ad agio si accumula questa paura e il piano si inclina sempre di più. Perché l'effetto della paura è fare inclinare ulteriormente il piano? In che modo? Evidentemente, voglio dire, la gente è angosciata e le tensioni assolutamente crescono. Cioè, voglio dire, quando si arriva a determinati punti, si possono avere degli effetti di rottura. Ed è quello di cui ho paura. Allora, il libro non è che descriva l'aumento della differenziazione dei redditi. Qui hanno già scritto tutti, da Picchetti, Atkinson, Premi Nobel, eccetera. Ma è la riflessione su cosa si può fare per raggiustare un pochino almeno, no? Per diminuire le ingiustizie a peda peda. Professore, quando governava lei era tutto semplice. Chi aveva paura guardava alla sinistra e cercava protezione. Chi voleva cavalcare il mondo guardava alla destra liberale. Adesso le cose non sono più così semplici, o no? Beh, per forza, perché il mondo in generale guardava alla destra liberale. No, il mondo occidentale. Perché c'era diffusa questa idea che la differenziazione dei redditi potesse produrre più crescita. E poi si è visto, ci è voluto molto tempo. Che non era vero, per cui stai attenti che per oltre 30 anni chi parlava di tasse perdeva le elezioni, ancora in parte così. Ma addirittura se si proponeva di tassare solo la fascia dei più ricchi, votavano contro anche i più poveri. Proprio perché c'era questa convinzione che la disparità aiutasse lo sviluppo. Poi ci si è accorti che non è vero e allora il piano si è inclinato sul serio. Senta professore, però sono almeno 3-4 anni che il centrosinistra governa. Letta, Renzi, Gentiloni. Lei è sicuro che questa sia l'area giusta a cui consegnare un paese in crisi? Ma mi dica quale può essere l'altra area. E qui dopo ci mettiamo ancora. Perché allora io vi dico, e prima di questo, chi c'era? Quando si descrivono questi grandi eventi di lungo periodo, sì, si possono dare le colpe a breve. Certamente la colpa è sempre dell'ultimo governo, ovviamente, no? Ma bisogna però pensare seriamente a qualcosa di più serio. Ecco, e qui siamo di fronte alla necessità di correzioni forti. Di correzioni forti. Però correzioni forti, professore, se facciamo il conto scuola, pubblica amministrazione, lavoro, sono temi su cui, ad esempio, Renzi ha inciso. In che cosa si è sbagliato? Vede, l'errazzamento di piano inclinato vuol dire anche riaggiustare le generazioni. Vuol dire scuola, scuola, scuola e poi scuola. Ma una scuola anche con gli aspetti applicati. Vuol dire l'aiuto ai più volenterosi e più capaci. Vuol dire l'intervento rispetto ai più poveri. Questo strano dibattito sul reddito minimo che viene fatto. Adesso tutti i partiti giustamente lo mettano sulla tavola perché ci vuole. Ma non abbiamo i conti precisi su come deve essere. Allora ognuno spara la cifra più alta e richiede che l'aggiustamento possa essere dato dando tanti soldi di liquidi più al mese. Ecco, la società è un fatto complesso. Invece il dibattito politico è diventato tutto uno scontro, tutto uno scontro a chi la spara più grossa. Senta, professore, lei diceva se non la diamo al centrosinistra a chi la diamo il compito di risollevare il paese. Ci sono molti tentativi di riunirlo da Pisapia a Renzi. Lei pensa sia fattibile e che lo vogliano davvero tutti? Non lo so se la vogliono tutti. Non so meno se sia fattibile. Io dico solo che è necessaria. Perché altrimenti succede come col pluralismo sindacale. invece di dire ma cosa vogliamo per la protezione dei più deboli? Ci si scavalca l'uno con l'altro, no? E allora se va avanti questo scavalcamento nel centrosinistra, è chiaro che tutto il centrosinistra si indebolisce. Non ho alcun dubbio su questo aspetto. Ecco, per quello che io, pur essendo del tutto fuori dal discorso politico, che volendoci rimanere fuori, mi sono sentito di dire, ma ragazzi mettetevi d'accordo, perché così non andate da nessuna parte. Diciamo, sento professore, i ragazzi che si devono mettere d'accordo, ormai lo sappiamo, sono Pisapia e Renzi. Sì, anche Bersani, anche, cioè, voglio dire, non ho mai nascosto che la scissione era un danno per tutti. Perché rimaneva e perché andava via. Non mi faccia cambiare parere stasera. No, no, non ci proviamo, professore. Senta, che ne pensa di Di Maio? Potrebbe essere lui a guidare il paese. Non l'ho mai incontrato, non lo conosco. Senza parole, diciamo. Senta, ha notato che quando i Cinque Stelle parlano di lei sono un po' meno duri che nei confronti di altre personalità politiche. Ha mai pensato a questo aspetto? No, non l'ho, davvero non l'ho notato. Ma io credo che siano meno duri nei miei confronti, anche perché io non so, perché è pericoloso. Voglio dire, è come, perché sparare sulla croce rosa? Senza, professore. Allora, mi dica cosa ne pensa di Matteo Salvini e della Nuova Lega Nord. Beh, secondo me è proprio, ha sbagliato la storia, voglio dire, il populismo avanza. Dove è avanzato il populismo? E' quando questo populismo ha tolto tutte le proprie radici, no? Non è né ascrivibile al fascismo, né al comunismo, né alla destra, né alla sinistra. E Salvini, invece, è rimasto fermo alle radici, quindi ha degli enormi limiti nella sua capacità di espansione. Cioè, per essere molto concreto, le pen padre fascista arrivava al 12,5%. La figlia che si è messa a prendere voti qui e là, anche dagli operai ex Partito Comunista, ne prende più del doppio. Perché il populismo vuol dire che tutto è sbagliato, come Bartali, no? Quando diceva tutto è sbagliato, tutto è sbagliato. Senta, professore, è mai capitato di pensare che da una parte 5 Stelle, dall'altra la Nega Nord, che è il più saggio all'opposizione, sia rimasto proprio il suo nemico, Silvio Berlusconi? Sbaglio, nel senso che vuole equilibrarsi in questa situazione difficile, sì, è arrivato perfino al partito degli animalisti, quindi, insomma, mi viene in mente, è più furdo, ecco. Però, vede, dipende dal discorso saggezza, Berlusconi negli ultimi periodi ha sempre nominato un suo successore e poi lo ha ucciso, che vuol dire che vuole rimanere al centro della scena politica. Secondo me è molto interessante da tenere presente, no? Perché vuol dire che... Beh, mi sa che Matteo Renzi questo lo tiene presente in maniera ben viva, no? Basta, come si accorderanno con una legge elettorale proporzionale che devasta il Paese, come si accorderanno, lo si vedrà dopo le elezioni, purtroppo, quindi, se continuiamo così, noi garantiamo l'instabilità. Professore, grazie, grazie di essere stato con noi. Grazie.